E chiudiamo i commenti registrati a CatalanTV con le parole del consigliere regionale Mario Bruno, artefice della vittoria del centro-sinistra ad Alghero. Mario Bruno, la città di Alghero passa al centro-sinistra, Stefano Lubrano ha vinto le elezioni, forse una vittoria inaspettata almeno in questi termini. Ma sì, per quanto riguarda il ballottaggio è stato un risultato sorprendente nelle dimensioni, però mi sembra anche un messaggio inequivocabile. È chiaro, la città ha scelto il cambiamento, è stata una campagna elettorale lunghissima, per noi di oltre sei mesi, insomma, dalle primarie, insomma, dal mese di gennaio a contatto diretto con i cittadini. È stato anche un modo entusiasmante di fare campagna elettorale nei luoghi dove i cittadini vivono. E quindi, insomma, un ringraziamento a tutti gli algheresi. Credo che ora al sindaco Stefano Lubrano la città chieda soprattutto di essere conseguente e quindi di dimostrare con i fatti questo cambiamento. Io credo che non bisogna fare molto di più di quello che è stato fatto in campagna elettorale, cioè continuare nel metodo che è stato praticato, nel rapporto diretto, nel rendere conto, nel coinvolgere i cittadini nelle scelte. Poi è chiaro che è un momento anche difficile dal punto di vista socio-economico, però credo che ci siano le competenze in Consiglio e credo anche nella Giunta che verrà formata per poter far bene. E' tenuto conto, insomma, delle difficoltà. Mi pare ci sia anche un cambiamento nei fatti, nel centro-sinistra, con una squadra in Consiglio Comunale fortemente rinnovata. Giovani, donne, ma non improvvisati, competenti, che hanno già fatto comunque un'esperienza di formazione, anche a livello associativo, un'esperienza già in qualche modo da classe dirigente di questa città. Quindi ci sono tutte le condizioni per poter far bene. L'ex sindaco Tede, nostri microfoni, ma anche l'ha dichiarato ieri, ha parlato anche di un'eventuale apertura, o comunque più che un'apertura, un sostegno nelle progettualità per il bene della città e per il bene degli algheresi. Secondo voi questa disponibilità sarà accolta? Ma noi tutti dobbiamo fare il bene degli algheresi. Credo che è quello che ogni cittadino attende da chi li rappresenta, da chi governa la città per conto loro. E quindi, insomma, ogni disponibilità in questo senso va accolta. Credo però che la campagna elettorale abbia mostrato due proposte. In una, io la vedo così, ho visto un po' la continuazione, in qualche modo la conservazione. Nell'altra ho visto una proposta di governo progressista, una proposta di governo molto aperta alla città. E credo soprattutto che bisogna fare in modo che tutti i cittadini siano coinvolti, che non ci siano cittadini serie A di serie B, che non ci siano imprenditori di serie A di serie B, che ci sia veramente una città che finalmente partecipa alle decisioni. E quindi io credo che in questo senso, se si coglie questo spirito, tutti possono essere coinvolti. E sarà, per come Stefano Rubano si è presentato, unire le energie migliori è anche una caratteristica del centro-sinistra. In chiusura, un breve passaggio sul livello regionale. Secondo lei, questi risultati di Agherio e Ristano avranno degli effetti anche sulla giunta Capellacci, sulla regione? Ma la giunta Capellacci di fatto si regge su una maggioranza di pochi numeri. Credo che stiano semplicemente allungando un'agonia. Dal mio punto di vista vedo tre anni senza risultati. Non mi pare che ci siano più i requisiti e in qualche modo anche le spinte necessarie per poter continuare questa esperienza. Credo che bisognerà andare al più presto al voto. Mi pare che anche il centro-destra ne sia consapevole. tra proposte politiche alternative, tra progetti alternativi. E in questo senso io credo che anche l'opposizione, e parlo anche della mia parte politica, deve forse fare di più, intensificare una opposizione netta, precisa, sui contenuti, sulle proposte e arrivare per quello che ci riguarda presto alle primarie per scegliere il nuovo candidato alla presidenza della regione. In questo senso io credo che una spinta anche da Agherio sia arrivata. Il risultato elettorale e la scelta che ne consegue va sempre rispettato e quello emerso dal turno di ballottaggio è stato chiaro e consegna la guida della città per i prossimi cinque anni a Stefano Lubrano e alla coalizione di centro-sinistra. Così il coordinamento cittadino del PDL che oltre gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco evidenzia come sia necessario continuare nella crescita e sviluppo che Agherio ha avuto negli ultimi dieci anni. Noi opereremo con lealtà ma anche con rigore affinché questo possa avvenire sapendo che dovremo confrontarci con una coalizione poco omogenea che ha al suo interno idee molto diverse per l'amministrazione della città, spiegano dal PDL. Il compito che ci attende sin da domani sarà determinante per il futuro. Agherio ha bisogno di verificare se le promesse fatte dal centro-sinistra saranno trasformate in fatti concreti e noi svolgeremo il nostro compito di controllo e soprattutto di indirizzo e proposta. Siamo convinti, scrivono ancora, che passata l'euforia elettorale il centro-sinistra dimostrerà tutta la sua inadeguatezza a guidare la città verso gli obiettivi del lavoro, della crescita, della solidarietà sociale e della buona amministrazione. E chiudiamo la pagina dedicata alla politica. Apriamo una finestra sulla cronaca. Interventi di soccorso della Guardia Costiera e della Rete di Salvamento. Questa mattina due giovani fidanzati sono stati recuperati in mare dopo che il pedalò che avevano preso a noleggio è quasi affondato fronte la spiaggia di Mugoni. Domenica intanto disincagliata una barca davanti alla spiaggia della Speranza. La Rete di Salvamento questa mattina è stata fondamentale per mettere in salvo due persone alle quali è affondato il pedalò mentre si trovavano in mare davanti alla spiaggia di Mugoni. Si tratta di due giovani, una coppia di fidanzati, che si sono dunque ritrovati in mare a circa 400 metri dalla costa. E' giunta immediatamente una chiamata alla sala operativa di Via Eleonora d'Arborea che ha messo così in funzione la macchina dei soccorsi. Una volta inviata la moto vedetta CP 871 sul posto, intanto il concessionario della ditta individuale Alfonso Giuseppe ha provveduto al recupero con un gommone. I due ragazzi fortunatamente stanno bene, anche se la giovane, molto spaventata, è stata accompagnata al pronto soccorso dal 118, anche questo avvisato dalla Guardia Costiera per i controlli del caso. Anche domenica la rete di salvamento ha operato in maniera repentina, nello specchio acqueo antistante, la spiaggia della Speranza. Un'imbarcazione da di porto, che aveva gettato l'ancora a circa 300 metri dalla spiaggia, ha scarrocciato, incagliandosi sul corridoio in mare del concessionario Leonardo Mura, che dopo essere stato contattato dalla Capitaneria, ha provveduto, unitamente al personale della moto vedetta, che nel frattempo era giunta sul luogo, a disincagliere l'imbarcazione e mettere in sicurezza le quattro persone a bordo. La barca è stata inoltre assistita fino al rientro in porto. Possiamo dire che la rete di salvamento sia efficace e tempestiva, ha detto il comandante della Guardia Costiera di Alghero Giuseppe Prigigallo, ma soprattutto di grande supporto al già impegnativo lavoro del personale della Capitaneria. I due interventi del fine settimana hanno messo in evidenza ancora di più quanto la collaborazione tra enti e privati sia preziosa. Ed ora diamo la linea alla regia per la pubblicità, tra poco.